Come sta evolvendo il Gender Cup nel mondo del design? Domanda complicata, ma credo che ci sia ancora una differenza nel modo di vedere le donne e gli uomini che si occupano di design. Io mi occupo soprattutto di decorazione di interni, che sembra sempre appartenere un po' a un mondo femminile, un mondo più romantico, mentre invece le donne si occupano di tutto, possono occuparsi di architettura, di qualsiasi stile. Quindi sì, c'è ancora un po' di lavoro da fare per dare una dignità a una professione così importante, assolutamente.